ragazzi buonasera mi raccomando con le iscrizioni e continuiamo ad iscriverci al canale attiviamo la campanellina mettete il link del canale sui vostri social gruppi whatsapp telegram instagram e che più ne ha più ne metta ragazzi attenzione perché first reaction shock shock because in our mind everything is totally connected with shock perché attenzione l'abbiamo detta in tre questi in tre questa cosa prima noi poi carlo festa il sole 24 ore ora la dice anche corriere dello sport attenzione io l'ho sempre detto che alessandro giudice indipendentemente dalla sua fede qualcuno lo lo etichetta come eh tifoso del milan a me non mi interessa perché alessandro giudice eh quando andava ospite in un canale spesso contro batteva spesso non era d'accordo con quello dicevamo noi perché facevamo live di botta risposta vi ricordate senza fare nomi e senza creare polemiche perché in pace si sta meglio tutti secondo me poi la battutina lo scherzo il clan di pechino quello ci sta l'importante non superare un certo livello ma alessandro giudice dice che da quando notizia dell'ultima ora da quando ho preso un investitore che sta trattando l'inter c'è già più vicino di quanto si possa sapere scrive alessandro giudice ed è portato da ok tri non da zang attenzione come fanno quelli bravi bom bam correale dello sport riporta questa notizia un'ora fa devo devo fare una correzione chiedo scusa i soldi del prestito di zang non sono finiti del prestito di ok tri ci sono ancora circa settanta ottanta milioni ho fatto un errore io perché ho letto male un dato ma effenberg è mi ha corretto subito mi ha detto giuse guarda ti sei sbagliato ci sono ottanta milioni intanto non si scappa sempre la verità esce fuori da questo canale perché intanto qui eh i numeri si conoscono alla perfezione e non solo quello qui si conosce anche il calcio alla perfezione perché zigzei gutmundson buongiorno erano giocatori e non conosceva nessuno un anno e mezzo fa io già ne parlavo ma non voglio le medaglie su il fatto perché ok tri debba dare tempo a zang ragazzi sembra strano anche a me anche se lo riporta il sole ventiquattro ore perché poi alla fine zang potrebbe aver chiesto tempo potrebbe aver richiesto un riscadenziamento e ottiglia ha detto ok eh perché magari zang potrebbe avergli detto non lo so è è un'ipotesi mia lo dio questo questa cosa qui la dio senza saperla zang avrebbe potuto dirgli guarda dai dammi un altro po' di tempo sono in parola con uno la sto vendendo e ottiglia ha detto ok ti do tempo ma fammi vedere a che punto sei con la trattativa ti do tempo ti do qualche altro mese ma solo ed esclusivamente per l'accessione perché magari zang voleva guadagnare tempo su quelli poi che parlano della sostenibilità economica e che ora sparano i fuochi d'artificio dopo una semestrale ma il bilancio non va visto ora il bilancio va visto a giugno e già si parla di una perdita di cinquanta sessanta milioni quindi quelli che parlano di sostenibilità economica ragazzi vorrei ricordare questo repubblica scrive il prestito un cesso assurico è gestito dalla divisione londinese special situation situation che si occupa di debitori classificati unlikely to pay poi attualmente quindi il rating del bond dell'inter è b che equivale a un giudizio di bond altamente speculativo ed è un bond spazzatura la terza ottrigge la zang non riscarenziamento mancano garanzie quindi non c'è altra via che il passaggio di proprietà il corriere dello sport un'ora tramite alessandro giudice scrive che ottrigge al compratore non siamo più soli anche se anzi parlo in me parlo di me che ci sono io davanti alla telecamera ma comunque anche secondo noi perché poi quante volte ci avete incalzato ma dove è il promissario acquirente giuse dove l'è ma come mai non c'è secondo noi è molto probabile che ottriga abbia già un compratore perché ottriga beve il sangue come dice effenberg ottriga ha fatto un sedere così ad evergrande in cina è stata l'unica a riscuotere poi tramite i terreni non mi interessa è stata l'unica a prendere i soldi da evergrande in cina perché ha una struttura devastante non hanno peli sullo stomaco qualcuno l'aveva scambiata per una hollus ho già detto più di una volta quindi c'è già questo compratore che secondo me è molto probabile quindi dopo gli esonerati che non sono nessuno detto un anno e mezzo fa dopo di noi è arrivato arrivò carlo festa a dire che addirittura carlo festa ci mise il carico da novanta perché disse guardate ragazzi che ottrigo concede il prestito l'ha detto l'anno scorso a tre lombardia perché ha già il compratore altrimenti non avrebbe concesso il prestito a zang un'ora fa arriva anche quella dello sport che dice che ottrigo ha già il compratore quindi vedremo come andrà a finire la sfera di ristallo non ce l'ha nessuno ma una cosa ragazzi l'è scelta che bisogna cambiare le proprietà bisogna ripulire un po' l'immagine e anche per a scelvi vedi che comunque all'inter non parla nessuno questo ragazzo è stato eh è stato abbandonato prima di farlo giocare se io fossi nell'allenatore controllerei anche lo stato d'animo di questo ragazzo magari lo farei riposare contro l'Empoli ma tutto va come deve andare ricordatelo bene quindi io al clan di Pechino mando un forte abbraccio li saluto perché poi alla fine i ragazzi mi stanno mi stanno anche simpatici perché facendo parte di quel regime si vede che alla minima virgola devono far finta che tutto vada bene guardate che non è facile ciao inter grazie 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 grazie